Diamoci da fare. Grazie a tutti. 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 Colpito! Peccato! Peccato! Grazie a tutti. Un amico danneggiato! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Li abbiamo appena aggraffiati! Veicolo nemico distrutto! La abbiamo appena aggraffiati! Vi abbiamo appena aggraffiati! Grazie a tutti! 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 Colpito! Colpito! Li abbiamo appena aggraffiati! Grazie a tutti! 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 Veicolo nemico distrutto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! C'è entrato! La battaglia è stata colpita! La battaglia è stata colpita! Forza! Torrazzato! Go! C'è entrato! Torrazzato! ana completamente sono messa e... Tutto c'è entrato! Porzato! Grazie a tutti. Grazie a tutti.